perché non torni bionda perché non voglio perché mi piaccio rossa tanto mi piaccio mi piaccio rossa mi da quel non so che credo più non so che più non so del che oh vi direte cosa stai facendo mi sto ripassando i nei che copro con il correttore potrei non coprire col correttore ma sono pigra quindi faccio tipo e anche tutte le mie lentigginine piccoline che ho sul naso le voglio amplificare io mi trucco sempre così e da here we are anche Anastasia Beverly Hills i prodotti sono ottimi sono una vera mua e li ho provati entrambi io ce li ho tutti purtroppo però il gel quello diciamo libero di Anastasia la mia sopracciglia che è una non lo rispetta infatti va dove vuole purtroppo l'ho provati per tanto tempo ma le mie sopracciglia hanno bisogno di un continuo di essere continuamente domate perché vanno dove cavolo gli capi cioè gli pare a loro non sono senza regole che fondotinta usi beh io ne uso tantissimi utilizzo forever veil di dior questo però è un primer basso tint matt matt primer però è colorato però utilizzo anche il fondotinta di dior che non so dove dove l'ho cacciato oh no si è tutto colorato mac fenty esteloder l'oreal d'accordo per fact nude insomma con questo mi ci trovo molto bene però il fondotinta io lo utilizzo solo quando ho una festa o il mio makeup deve durare ma tipo tutto il giorno perché se no cioè devo sembrare perfetta perfetta se no non lo utilizzo perché metto solo il correttore e basta perché fortunatamente non ho chissà quali discromie della pelle quindi posso posso non non mettermi tutto il fondotinta diciamo ogni giorno meglio anche perché io sono una impiastrona quindi a volte mi dimentico e mi sporco tutta anche semplicemente con il trucco che ho in faccia al momento come fate tirati così i capelli e intanto ditemi se dietro sono fatti bene qualcuno mi dica comunque niente ormai ho preso credo la mano anche su questo perché mi faccio sempre i capelli tirati mi faccio sempre i capelli così però a sto giro non ho gel non ho niente ho semplicemente ho semplicemente messo un po di lacca proprio un velo così e infatti si vedono qua i miei capellini che fanno gnup gnup così e li ho spazzolati con la spazzola fine poi ci ho messo le forcine basta ormai credo che è una cosa che mi venga in automatica perché io comunque non è che mi lavo i capelli tutti i giorni e queste pettinature le faccio H24 ragazzi più che un fondotinta e un correttore che non occludano i pori perché nessuno in teoria deve occludere i pori ci sono dei fondotinta che sono più poleosi e altri meno stessa cosa dei correttori io opterei soprattutto una doppia detersione quindi non struccatevi solo con l'acqua micellare ma struccatevi anche con il burro struccante e poi un diciamo cleanser un po' lattiginoso e niente quindi questo anche io fino a poco tempo fa mi struccavo solo con diciamo l'acqua micellare da quando da quando utilizzo anche il burro struccante mi si è svoltata la vita perché toglie via tutto l'anima così pum allora comunque mi dicevate che matita utilizzi anche per la sopracciglia dato che ci sono io utilizzo anche un po' questa di mac quando faccio dei pasticci come sto giro per coprire i buchini faccio un po' così e prego che non si veda sì ci sono ci sono Grazie.